Ragazzi buongiorno, oggi vediamo come allenare i bicipiti con un 4x10 e un finisher finale. Quindi seguitemi, vi farò vedere tutto l'allenamento come organi usato e così potrete andare a provarlo. Lavoriamo in maniera semplice, andiamo ad eseguire tre esercizi con un 4x10 con soli 30 secondi di recupero e poi andiamo a fare una serie finale da 60 secondi di finisher. Allora, i primi tre esercizi che andiamo a fare, ecco ci basta allenarci una coppia di manubri. Quindi prima serie 4x10, 30 secondi di recupero Karl Hammer, così lavoriamo bene anche con il comparto brachio-radiale. 4 serie di a10 di Karl Hammer in questo modo. Dopodiché andiamo a fare un Dragon Karl, quindi da questa posizione facciamo questo. 4 serie da 10, ok? Sempre 30 secondi di recupero, 30 secondi. Poi andiamo a fare un Karl a T, quindi ci mettiamo in questa posizione e mi fate questo. Sempre 4 serie da 10 con 30 secondi di recupero. Finale 60 secondi di Karl classico, quindi un Karl classico. Cercate in 60 secondi di eseguire tutto quello che riuscite, ok? Tutte le ripetizioni. Ecco, chi è forte riesce a gestire anche un 30-40 ripetizioni. Questo è il lavoro che vi consiglio come lavoro di specializzazione per i bicipiti. Sono 4 esercizi. Primi 3 esercizi, 4 da 10 con 30 secondi di recupero tra un set e l'altro. Tra un esercizio e l'altro potete recuperare anche un minuto e mezzo, due minuti. Ultimo esercizio, recuperate bene. Scaricate i carichi perché i carichi saranno inevitabilmente leggeri. E andiamo a fare una serie da 60 secondi di Karl. Vi assicuro che questo è un super lavoro per i vostri bicipiti. Sicuro che vi porterà, ecco, nel tempo a ottenere grandi risultati. Ecco, potete tenere questo protocollo di lavoro anche per 4-6 settimane che va benissimo. Chi di voi si vuole allenare con me? Veramente, trovate i miei migliori percorsi d'allenamento nel mio sito. Sono percorsi che ormai sono stati utilizzati da migliaia di miei allievi. Chi di voi invece vuole essere seguito da me e dal mio team per una consulenza online? Trovate i contatti sempre nel link del mio sito umbertomiletto.it Per me è sempre un piacere essere qui con voi, accompagnarvi in questo percorso di miglioramento. Dateci dentro e per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi. Un saluto, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie a tutti!